Ben ritrovati amici di Revolution, oggi il vostro ades vi presenta la video recensione di un nuovo prodotto stiamo parlando della Corsair Vengeance K95 che è la tastiera di fascia alta dell'azienda come andremo a vedere si configura ovviamente come l'evoluzione della Corsair K90 che era la tastiera sulla nostra piattaforma di prova che prendere il posto e andremo a vedere sia cosa c'è di nuovo nella tastiera sia tutte le caratteristiche che comunque è in comune anche con la K90 partendo dalla confezione, sulla parte frontale è visibile un'anteprima della tastiera ovviamente Corsair Vengeance in grande stile sulla parte sinistra della scatola mentre sulla parte destra è visibile K95, Mechanical Gaming Keyboard ed è visibile l'adesivo che indica l'English Layout quindi il layout britannico ovvero QWERTY ma invece delle lettere accentate ci sono i simboli ovviamente se voi impostate il layout italiano tramite Windows voi premendo il tasto in corrispondenza avrete comunque le lettere accentate solo che dovrete andare a memoria, questa è l'unica differenza ora andando a vedere il retro della confezione c'è un'anteprima totale della tastiera e ci sono una serie di caratteristiche in varie lingue quindi italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e anche portoghese non ci interessa il portoghese, siamo italiani e anche una serie di caratteristiche evidenziate con delle lettere che andremo ad analizzare quindi non c'è bisogno che leggiamo sulla scatola allora insieme alla tastiera prima di vedere la K95 andiamo a vedere cosa è incluso nel bundle che il bundle è composto da questi due manuali solo questi due manuali ma non abbiamo bisogno di nient'altro perché una tastiera non è una scheda video che ha bisogno di connettori e quant'altro ci sono una guida alla garanzia che indica come, dove, quando sostituire la propria tastiera in caso di guasti o comunque malfunzionamenti e una guida all'installazione rapida che permette di utilizzare il software e tutte le caratteristiche di cui dispone la tastiera senza nessuna difficoltà ma avendo abbastanza esperienza con la Corsair K90 non ho avuto bisogno del manuale chi è alle prime armi potrebbe averne bisogno ma come potrete vedere le funzioni base sono così semplici da utilizzare che il manuale è quasi necessario comunque Corsair lo mette qualora foste proprio alle prime armi con la personalizzazione della propria tastiera andando a prendere proprio la K95 eccola qui come potete vedere se avete presente la Corsair K90 che è in alluminio anodizzato quindi grigio spazzolato questa è nera e invece della retroilluminazione blu dei tasti ha una retroilluminazione bianca proprio nei tasti è la differenza principale oltre al sistema di illuminazione ovvero anche i tasti macro che sono 18x3 preset quindi la possibilità di utilizzare 54 macro anche il tastierino numerico le frecce e il blocco print screen blocco scorrimento eccetera sono tutti i tasti meccanici ora vi faccio vedere come potete vedere noi abbiamo i MX Cherry Red quindi il tasto è rosso sotto cioè l'interruttore meccanico è rosso sotto al tasto però non ci interessa rimettiamo di nuovo questa è una gran cosa perché il feedback del corpo centrale della tastiera viene mantenuto anche sui tasti laterali e comunque accessori per così dire il che per chi ha sviluppato l'abitudine alle tastiere meccaniche sia di prima generazione ovvero le vecchie tastiere degli anni 80 o le tastiere meccaniche da gioco che sono uscite negli ultimi anni quindi permette di avere lo stesso feeling su tutto il corpo della tastiera non solo sulle lettere sullo spazio e sui numeri il che è una gran cosa che proprio la community di Corsair ha chiesto come miglioramento rispetto alla K90 andando a vedere altre caratteristiche il poggiapolsi che è in materiale morbido comodissimo ha una texture bucarellata che serve ad evitare al polso anche se si suda di scivolare e capita di rimanere ore e quindi sudare il polso è una questione fisiologica quindi è una scelta azzeccatissima poi ci sono i soliti tasti multimedia che troviamo anche sulla Corsair K90 ci sono la rotella per il volume e il tasto muting poi il tasto per bloccare il tasto rapido windows che troviamo tra l'altro con il logo di windows 8 quindi è abbastanza recentissima come tastiera poi vediamo il tasto per la selezione del livello di retroilluminazione che può essere impostata su un terzo o due terzi totale e spenta mentre abbiamo l'introduzione di un nuovo tasto che è quello per la retroilluminazione specifica come andremo a vedere poi una volta collegata andremo a vedere in che cosa consiste questo tasto e come viene utilizzato sulla tastiera nella parte posteriore è visibile un connettore usb presente anche nella K90 e un selettore per i bios ovvero se abbiamo piattaforme particolarmente datate o magari in combattibilità con il bios perché alcuni bios fanno i capricci con periferico usb quali tastiere mouse è possibile selezionare una delle modalità ed è fatto in modo che ogni modalità abbia almeno la compatibilità con un tipo di scheda madre quindi noi con la nostra scheda madre che è una gigabyte Z87XOC non abbiamo avuto nessun problema di compatibilità e nella modalità 1, 2, 4, 8, bios in tutti i tipi di modalità non abbiamo avuto problemi andando a vedere il cavo è molto spesso lungo circa un metro e mezzo e termina in due connettori uno che è per la tastiera che ha il simbolo della tastiera stampato su di esso mentre l'altro ha il simbolo della porta usb che serve proprio a dare alimentazione e connessione dati alla porta usb sul retro della tastiera ora che abbiamo visto la K95 in generale andiamo a collegarla e quindi andiamo a vedere un pochino come funziona la retroilluminazione e come appare una volta collegata bene una volta collegata la tastiera al nostro computer come potete vedere il look è decisamente accattivante con la retroilluminazione bianca su sfondo nero che è l'alluminio anotizzato la tastiera tra l'altro come abbiamo detto in apertura ha un sistema personalizzabile di retroilluminazione in che cosa consiste? basta premere uno dei tasti macro quindi M1, M2 o M3 per uno dei tre preset delle macro per poter regolare nel modo in cui si preferisce la propria retroilluminazione basta tenere premuto il tasto indicato in apertura con il simbolo dei tasti accesi e spenti ed è possibile impostare la retroilluminazione come più preferiamo quindi una volta finito regolata la retroilluminazione è possibile tenere premuto di nuovo il tasto finché il cerchio rosso intorno smette di lampeggiare ed ecco che avrete il vostro preset come più preferite per quanto riguarda invece la retroilluminazione totale basta premere una sola volta il tasto e la tastiera si accenderà totalmente quindi magari sessione di gioco dopo la sessione di gioco premete il tasto e riavete di nuovo la tastiera retroilluminata nel modo in cui preferite ora passando da un modo all'altro è possibile avere tre tipi di retroilluminazione sul primo c'è la retroilluminazione completa secondo e terzo invece sono un po' random poi si può regolare la retroilluminazione su tre livelli ovvero quattro, tre più quello spento ovvero retroilluminazione spenta 33% di intensità 66% di intensità e 100% di intensità che come è possibile vedere è il massimo della retroilluminazione passando quindi al giudizio di questa tastiera ci è sembrata a livello di design molto accattivante e l'abbinamento bianco nero si sposa bene con tutte le configurazioni a cui volete associare questa periferica da gioco l'unico difetto che se vogliamo possiamo additare alla tastiera è il fatto di non avere una retroilluminazione di tipo RGB cosa che peraltro presenta la Corsair Raptor K50 che è una tastiera di fascia media e che quindi supera almeno in questo le caratteristiche della sorella maggiore ovviamente la K50 dal lato suo non ha i tasti con interruttori meccanici bensì ha i tasti a membrana quindi al momento chi vuole una tastiera del colore personalizzabile o dal feedback tattile davvero eccellente si trova di fronte ad una scelta facendosi quindi Corsair con correnza da sola ipotizziamo comunque che Corsair stia lavorando a un'ipotetica Corsair K100 tramite la quale è possibile avere sia i tasti meccanici della K95 sia la retroilluminazione RGB delle Corsair Raptor K50 giungendo quindi ad un giudizio la tastiera secondo noi si merita 9 stelle e l'award Rivo Design perché 9 stelle? perché il prezzo della tastiera è di 150 euro in effetti è di 150 dollari sul mercato americano ma tramite il cambio e comunque l'inclusione di tasse e di IVA il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 presso i rivenditori italiani il prezzo è un po' elevato seppure comunque la Corsair K90 con meno futures aveva lo stesso identico prezzo al momento del lancio comunque nelle settimane a venire la tastiera subirà un calo di prezzi dovuto al fatto che sul mercato da più tempo ci sarà più richiesta quindi potrete averla anche a prezzi inferiori inoltre vi invitiamo a seguire la pagina Corsair Italia che presenta di tanto in tanto offerte con rivenditori specifici grazie al quale è possibile acquistare prodotti della Corsair a prezzi inferiori rispetto a quelli standard quindi tramite sconti o offerte specifiche per gli appassionati del brand per oggi è tutto il vostro Ades vi ha presentato la video recensione della Corsair K95 ci vediamo alla prossima video recensione che tratterà la periferica sempre della Corsair Vengeance ma stavolta un headset wireless ovvero le Corsair Vengeance 2000 quindi un saluto da Ades e da tutta la redazione alla prossima!